C'è un amico fidato dove vivi e lavori. Un amico che si prende cura di te e della tua attività. Banca di credito cooperativo di Castiglione Messerraimondo e Pianella. Da oltre 50 anni è l'amico vicino a te. Da più di 50 anni e dalla passione di 300 viticoltori, Cantina Miglianico produce vino di qualità per soddisfare tutti i giorni i gusti degli abruzzesi. E non solo. Cantina Miglianico è il punto di riferimento per chi si impegna a valorizzare i vitigni autoctoni del nostro Abruzzo. Scegli Abruzzo. Scegli Cantina Miglianico. Via San Giacomo 40 Miglianico. Vesti al meglio il tuo team. Treasport a Francavilla al Mare in via nazionale adriatica 237. Fornisce tutto per la tua squadra. Treasport è rivenditore ufficiale Errea, Macron e Ioma. Treasport per una stagione da campioni. Treasport per una stagione da campioni. Ben tornati a questo nuovo appuntamento con Vestina News. Torniamo ancora una volta a parlare di politica qui dai nostri studi perché una volta archiviate le elezioni regionali del 10 febbraio 2019 adesso è tempo di bilancio, un bilancio che ha dato anche nell'area Vestina questo dato molto indicativo che è quello della Lega che ormai ha preso piede in tutta la regione Abruzzo e così anche nell'area Vestina. Andiamo a fare un po' di dati di quello che sono state queste elezioni partendo dai votanti perché il 54% dei votanti è stata questa l'affluenza alle urne, la uscita dalle urne e con un precedente del 65,43%. Quindi quello che esce subito ai nostri dati, agli occhi è che comunque c'è stato un forte astensionismo. Tanti candidati nell'area Vestina ne sono contati ben 12. quello che ha preso più voti, che ha preso più preferenze è stato Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle con 9.536 poi seguito da Lorenzo Sospiri di Forza Italia con 6.012 voti e poi Carla Ricci 3.231 voti per la Lega e così via. Noi abbiamo sentito le impressioni di alcuni politici di questa area e partiamo subito dalla Lega, movimento che comunque, come abbiamo detto in apertura si è insediato anche nell'area Vestina e il primo contributo è con il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli. Sandro Marinelli, sindaco di Pianella, facciamo un po' il punto della situazione post-elettorale delle elezioni regione del 2019 Lega fortissima nell'area Vestina purtroppo questo non è bastato a Carla Ricci per essere eletta però si può ripartire da un buon punto. Beh direi proprio di sì, il successo della Lega in generale in tutta l'Abruzzo ma in particolare nell'area Vestina è stato davvero strabiliante è andato oltre le nostre più rose previsioni noi presentavamo una candidatura per certi versi molto innovativa siamo soddisfatti del grande risultato 3.231 voti partendo da Pianella non sono pochi è sicuramente una grande investitura che ci responsabilizza per il futuro. Secondo Sandro Marinelli quali sono i partiti o comunque quelle persone senza fare dei nomi specifici che comunque hanno un po' deluso in queste elezioni regionali e perché comunque poi la Lega è riuscita a fare questo risultato così importante in una regione dove non era fortemente radicato questo partito? Non che non fosse radicato, non c'era proprio quindi il risultato è davvero senza precedenti. Io credo che l'elemento fondamentale e la lezione che tutti dobbiamo trarre da questa consultazione elettorale è che il dato della concretezza è quello che oggi l'elettorato cerca. Non c'è più un elettorato che può essere condizionato o portato da una parte e dall'altra a seconda di un dato clientelare o di appartenenza personale. Il dato vero è politico e che c'è bisogno di progetti, di persone serie che sappiano far seguire alle parole i fatti. A proposito di Salvini, grande gioia perché Salvini ha scelto anche Pianella per la sua visita, per il suo comizio elettorale e Pianella si è posta come grandi comuni visitati dallo stesso Salvini. Devo dire che siamo ovviamente stati orgogliosi della scelta di Matteo Salvini e della Lega Abruzzo di fare una tappa nell'area vestita e di scegliere Pianella anche perché ovviamente il fatto che l'amministrazione comunale sia retta da me che aderisco a questo partito credo non sia stata secondaria in questa scelta. Ovviamente siamo anche contenti della grande accoglienza che Matteo Salvini ha ricevuto da qualche altra parte c'è stata qualche polemica Pianella no, Pianella si è mostrata generosa ma tutta l'area vestita perché abbiamo riempito Piazza Garibaldi come non si vedeva da decenni e con entusiasmo, voglia di fare, partecipazione. Quali, secondo Sandro Marinelli o quali sono i partiti che hanno un po' deluso da questa tornazione elettorale? Deluso, io non credo che quando ci siano delle elezioni poi si possa parlare di delusione bisogna prendere atto di un dato elettorale ragionarci e cercare di capire dove si è sbagliato e cosa si può fare per migliorare sicuramente il dato del Movimento 5 Stelle è un dato che deve far riflettere ho visto che il leader di questo movimento Luigi Di Maio ha fatto una riflessione approfondita mettendo in discussione quello che sembrava un totem cioè l'impossibilità di creare alleanze la politica si fa insieme, la politica è condivisione anche trovare punti di compromesso e quindi credo che da questa esperienza sicuramente non esaltante dal punto di vista elettorale lo stesso Movimento 5 Stelle possa trovare momenti di riflessione per calarsi in una progettualità politica che anche territorialmente possa portare ad un confronto una condivisione e alla necessità di lavorare insieme per risolvere i problemi del territorio da soli non si va da nessuna parte altro elemento ovviamente all'interno del centro-destra vede un ridimensionamento di Forza Italia che ha una necessità credo oramai non eludibile di rinnovare persone e progetti perché il dato elettorale segna ovviamente un regresso importante che non può non indurre anche Forza Italia a fare una riflessione su questi aspetti però sostanzialmente è chiaro che il centro-destra ha avuto un successo straordinario Con questo concludiamo, che cosa si aspetta adesso la Lega dal nuovo presidente Marco Marsiglio quali saranno secondo Sandro Marinelli gli scenari che si andranno ad aprire? Ovviamente si tratta di una coalizione composita e gli equilibri devono essere tutti rispettati e tutti gli apporti che sono stati forniti alla vittoria di questa coalizione devono trovare la loro giusta rappresentatività sicuramente la Lega è l'azionista di riferimento di questa coalizione avrà il compito di aiutare Marco Marsiglio a cambiare passo a questa regione Eccoci tornati in studio abbiamo sentito le parole del sindaco di Pianella Sandro Marinelli passato alla Lega proprio nei giorni antecedenti nei mesi antecedenti a queste elezioni regionali adesso il punto lo faremo con Mario Semproni sindaco di Penne anche lui sostenitore del centro-destra con la lista di Forza Italia a Penne erano ben due i candidati del centro-destra uno per Forza Italia come Campitelli e l'altro per Fratelli d'Italia come Leonardo D'Adazio andiamo a vedere che cosa ci ha detto il sindaco di Penne Mario Semproni La Ria Vestina ha confermato quello che è stato detto anche a livello regionale Marco Marsiglio il più votato però a Penne comunque resta forte il consenso per il Movimento 5 Stelle anche se il centro-destra ha tenuto Diciamo che per quanto riguarda lo schieramento di centro-destra al quale praticamente noi apparteniamo il risultato è stato positivo con l'elezione di Marco Marsiglio ma anche il numero di voti conquistato dal centro-destra qui nella nostra città è stato un numero di voti soddisfacente e l'unico neo io credo sia quello che ancora una volta l'area Vestina non è riuscita a mandare in regione all'Aquila un proprio rappresentante questo veramente è qualcosa che mi rattrista perché è una cosa che si ripete ad ogni elezione non riusciamo a coagulare le nostre forze intorno a un personaggio che poi possa essere inviato in regione Allora lei ha anticipato la mia domanda e le chiedo per quale motivo siamo ancora a questo punto? È una mentalità che non comprendo ma che purtroppo si trascina non da anni ma da decenni io credo che sia purtroppo una incapacità dei cittadini dell'area Vestina di capire che i problemi dell'area Vestina devono essere risolti da quelli che ci abitano Si aspettava l'exploit di questa Lega sì forte ma che fosse così radicata anche in area Vestina? Diciamo che il successo della Lega era nell'aria e quindi mi aspettavo sicuramente che nell'ambito degli eletti molti provenissero dalle fila del gruppo del raggruppamento della Lega io ho visto anche i voti espressi così dagli elettori di Penne molti hanno appunto dato la loro fiducia alla Lega oramai la Lega non è più il classico partito che ricordiamo legato esclusivamente alle regioni del nord è diventato un partito esteso a livello nazionale si aspettava se non comunque a Penne non è stato così questo debacle del Movimento 5 Stelle ma il Movimento 5 Stelle io ascoltando anche il parere di alcuni così che simpatizzavano per il Movimento 5 Stelle era nell'aria che molti voti che erano confluiti anche facendo riferimento a due anni e mezzo fa quando non siamo stati molti voti sarebbero tornati nello schieramento del centro-sinistra e così è stato quindi tutto sommato questo invece non è accaduto a livello di centro-destra che tutto sommato ha mantenuto diciamo il proprio potenziale di elettori il centro-destra appena ha espresso due candidati uno forte con l'amministrazione come Campitelli l'altro era Leonardo D'Addazio si poteva fare forse di più andare insieme o che cos'altro sicuramente dividere le forze non ha giovato né all'uno né all'altro e questo fa riferimento a quello che abbiamo detto prima se non troviamo il modo di sederci a un tavolo e coagulare le forze intorno ad un un unico candidato accadrà sempre questo si aspettava questa ripresa del centro-sinistra proprio a discapito del 5 Stelle ma Legnini probabilmente è stata la carta vincente messa in campo dal centro-sinistra Legnini è una persona che gode sicuramente anche di apprezzamento e di stima per cui tutto sommato la scelta fatta dal PD in particolare ma dal centro-sinistra in generale è stata una scelta giusta chi da questa turnazione elettorale sicuramente riesce molto più soddisfatto di quando non si aspettasse è il centro-sinistra perché grazie al nome forte di Giovanni Legnini è riuscito a recuperare quello elettorato che nei giorni scorsi e nei mesi scorsi si era perso grazie anche a un PD che comunque sta perdendo consensi un po' in tutta Italia il punto col centro-sinistra per le elezioni dei regionali e comunque su come sono andate nell'area vestita l'abbiamo fatto con il sindaco di Loretta Brutino Gabriele Starinieri che ci ha parlato di come il centro-sinistra appunto è riuscito a recuperare questi tanti voti e su come ancora una volta per l'ennesima volta l'area vestita è restata fuori da Palazzo dell'emiciclo dell'Aquila Sindaco Starinieri appena concluse le elezioni regionali del 2019 facciamo un punto per quello accaduto in area vestita che ha detto che la Lega è un partito comunque forte anche nell'area vestita vestita ridimensionamento grande per i 5 stelle Legnini con il suo centro-sinistra ha ripreso una boccata d'ossigeno diciamo così partiamo da quest'ultimo certo il valore della candidatura di Legnini si è visto con i risultati la Lega anche nell'area vestita ci sono state le stesse percentuali che sull'ambito regionale nonostante non c'erano candidature dirette ecco sì la signora Ricci di Pianella però ecco candidature indicative di Lega in area vestita non ce n'erano quindi è il partito che proprio è ben visto dei cittadini e questo che cosa significa secondo Starinieri la Lega presente nell'area vestita? beh questo vuol dire che i cittadini ormai non riescono a distinguere nemmeno il livello di elezione è stato un voto molto politicizzato c'è stata la presenza e ciò non guasta se poi si ricorderanno i diversi ministri che sono venuti in campagna elettorale dell'Abruzzo ed in particolare dell'area vestita che da qualche tempo ha delle sofferenze per non dire delle carenze sulla viabilità sull'ospedale e su tante altre cose se parliamo di un centro sinistra che a pensare due tre mesi fa poteva essere quella più battuta di questa tornata elettorale invece nell'ultimo mese si è recuperato qualcosa è riuscito a posizionarsi davanti ai 5 stelle e questo fa ben sperare beh certo la candidatura di Legnini sicuramente ha ridato molto entusiasmo a chi e poi fa politica all'interno del centro sinistra gli argomenti erano validissimi i candidati validissimi c'è una certa stanchezza di chi fa politica attiva quindi ad andare in mezzo alle persone purtroppo i tempi sono questi parliamo di un PD e di tante liste civiche le liste civiche hanno mantenuto e hanno comunque aperto uno spiraglio per questo centro sinistra invece il PD deve ancora lavorare certo le liste civiche hanno coinvolto molte persone che poi si sono impegnate in campagna elettorale e nelle stesse liste civiche c'erano dei candidati addirittura del partito democratico quindi ecco si è tentato un po' di riaggregare e riorganizzare le forze di centro sinistra e credo che stando in mezzo l'agenda anche io personalmente portando delle ragioni concrete molta gente ha capito poi ecco la debacle del Movimento 5 Stelle è da interpretare un po' che la politica degli annunci non sempre paga le liste civiche di centro sinistra che cosa potrebbero apportare a questo governo e le liste civiche sono comunque nei giorni prossimi o comunque nel tempo futuro saranno ancora in piedi secondo lei ecco alcune sicuramente chi è riuscito ad eleggere almeno un consigliere regionale sicuramente continuerà a fare politica perché si formeranno i gruppi consigliari spero che gli altri gruppi delle liste civiche non si dissolvano nel senso che finita le elezioni finisce l'attività è un augurio che faccio e dico forza e coraggio a chi vuole comunque interessarsi per occuparsi della politica che per occuparsi della vita di tutti due domande prima di chiudere era convinto comunque si aspettava questo risultato nel suo comune e in più per l'ennesima volta tutto il comprensorio dell'area vestina resta fuori dal palazzo dell'emicicla beh ecco mi aspettavo in un certo senso questo risultato poi essendo tra chi va anche a chiedere il voto quando si corre si corre sempre per vincere ecco bisogna guardare il bicchiere o mezzo voto o mezzo pieno però le elezioni non sono un traguardo da raggiungere vincere le elezioni vuol dire assumersi grandi responsabilità amministrare un comune o in questo caso addirittura una regione quindi poi diamo del tempo vediamo cosa riusciranno a fare però non è la vittoria che misura la politica ma poi è quello che riesce a realizzare per tutti l'area vestita credo che sia nel nostro sangue raramente riesce a parlare e chi fa politica riesce a parlare con gli altri e credo che è un problema che durerà ancora qualche tempo non sono ottimista in quel senso perché danno la colpa ad altri esterni che vengono a spaccarci la colpa è tutta nostra chi riesce ridimensionato invece da questa turnazione elettorale è sicuramente il Movimento 5 Stelle noi lo abbiamo fatto parlando con Luca Falconetti uno dei rappresentanti in consiglio comunale di Penne del Movimento 5 Stelle anche se a Penne il Movimento 5 Stelle comunque si è attestato intorno al 30% stessi numeri che aveva avuto nelle elezioni comunali del 2016 un Luca Falconetti che ha voluto comunque dare un segnale importante al partito al Movimento 5 Stelle per parlare di territorialità quella territorialità che è mancata sulla piattaforma russo scegliendo il candidato forte sull'area vestina andiamo a vedere cosa ci ha detto appunto Luca Falconetti Luca Falconetti del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle di Penne il Movimento 5 Stelle ancora una volta ha fatto grandi risultati nel vostro comune nel comune più grande dell'area vestina però purtroppo questo non è bastato per la regione Abruzzo ancora una volta il Movimento 5 Stelle riesce a non avere il suo presidente di regione Sì innanzitutto grazie per l'invito ed è giusto quello che quello che hai detto per quanto riguarda il nostro risultato appenne noi ovviamente come abbiamo scritto anche nel nostro comunicato io e i miei colleghi consiglieri Maurizio e Paola siamo molto soddisfatti di quanto abbiamo raggiunto perché ancora una volta siamo prima forza politica appenne come accade ininterrottamente dal 2016 indipendentemente dal tipo di votazione c'è da dire che a Penne abbiamo avuto il nostro candidato Domenico Pettinari che è stato il più votato a Penne ed anche il più votato in Abruzzo perché ovviamente i cittadini gli hanno riconosciuto il grande impegno che ha profuso per la sanità pubblica per la legalità e anche per l'area vestina a mio avviso è anche importante analizzare però i risultati in senso ampio per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle in Abruzzo così come in ogni tornata elettorale amministrativa è chiaro che noi paghiamo la poca presenza dei rappresentanti sul territorio non è un caso che a Penne abbiamo fatto questo risultato mentre in altri comuni dell'area vestina il risultato è stato inferiore le altre forze politiche sia di destra che di sinistra possono contare su consiglieri comunali sindaci che comunque in un modo o nell'altro sono legati o al centro-destra o al centro-sinistra invece il Movimento 5 Stelle no ripeto questo però non significa la morte o l'estinzione del Movimento 5 Stelle come tante altre forze politiche vogliono far credere io mi sono appuntato giusto qualche numero per far capire le dimensioni della situazione il Movimento 5 Stelle appena ha preso quasi 2000 voti col 31% la Lega il 26% con 1500 e questi sono stati soprattutto i voti di opinione perché in pochissimi hanno scritto una preferenza visto che i candidati della Lega non sono persone strutturate all'interno del partito ma sono tutte persone provenienti da altre forze politiche il dato interessante secondo me è quello di Forza Italia e del PD il PD ha preso un poco più del 10% con 622 voti nonostante avesse un suo candidato forte stessa cosa ancora più grave per Forza Italia che a Penne non è arrivata neanche al 10% prendendo solo 570 voti e a mio avviso è sintomatico che un assessore quindi un membro della giunta comunale di Penne sostenuto da gran parte della giunta comunale della maggioranza di Penne oltre che dal sindaco di Colle Corvino e presidente di provincia non abbia raggiunto neanche le 500 preferenze nel suo partito essendo il meno votato di tutta la provincia questo secondo me è sintomatico di quanto comunque a Penne o nell'area vestina anche il centrodestra al suo interno possiede così tante forze e così tante anime che non è possibile eleggere un candidato unitario tu stesso hai nominato la candidatura il buon e ottimo risultato di Domenico Pettinari in provincia di Pescara però voi stessi nel comunicato avete fatto riferimento a quello che il sistema di scelta dei candidati quello della piattaforma Rousseau dove comunque ancora questa volta nessuno dell'area vestina è riuscito ad entrare poi ad essere candidato come consigliere sì quello che abbiamo detto circa le difficoltà interne che comunque ci sono ed è giusto ammetterlo così come ha fatto il nostro capo politico Luigi Di Maio noi siamo una forza politica comunque giovane che comunque sta innovando tantissimo nel panorama politico italiano non è mai successo prima che i cittadini potessero scegliere i propri candidati prima delle elezioni quindi da questo punto di vista il sistema che noi stiamo implementando è comunque positivo c'è da dire però che ripeto come ha detto anche Luigi Di Maio ci sono dei correttivi da apportare io mi sono permesso di proporre quello che anche tu mi hai ricordato cioè che bisogna dare più spazio alla territorialità è chiaro che se si vota per provincia le città più grandi avranno sempre una forza maggiore rispetto alle aree interne dove gli iscritti sono di meno quindi questo può essere un correttivo importante eccoci tornati in studio per l'ultima volta abbiamo sentito i commenti di questi quattro esponenti della politica dell'area vestina il punto è questo che comunque per l'ennesima volta e ancora una volta l'area vestina e il territorio dei comuni di Pene e intorno ai comuni limitrofi a questo grande comune siano rimasti ancora una volta fuori dal palazzo dell'emilciclo senza poter puntare su un personaggio di peso in questo che potrebbe portare i problemi dell'area a livello regionale si continuerà sicuramente a lottare per la politica per i tanti problemi che sono qui sull'area come il lavoro come la viabilità come l'ospedale di Pene e noi con Vestina News accenderemo sempre i riflettori su queste problematiche io vi saluto ringrazio Gaetano Terrio in regia e vi do appuntamento alle prossime puntate di Vestina News C'è un amico fidato dove vivi e lavori un amico che si prende cura di te e della tua attività banca di credito cooperativo di Castiglione Messerraimondo e Pianella da oltre 50 anni è l'amico vicino a te da più di 50 anni e dalla passione di 300 viticoltori Cantina Miglianico produce vino di qualità per soddisfare tutti i giorni i gusti degli abruzzesi e non solo Cantina Miglianico è il punto di riferimento per chi si impegna a valorizzare i vitigni autoctoni del nostro Abruzzo scegli Abruzzo scegli Cantina Miglianico via San Giacomo 40 Miglianico Vesti al meglio il tuo team Treasport a Francavilla al mare in via nazionale adriatica 237 fornisce tutto per la tua squadra Treasport e rivenditore ufficiale Erea Macron e Ioma Treasport per una stagione da campioni di via